Io quando volete ci sono. Ok, perfetto. Ci siamo. Camera 2 c'è. Ok. Documentario 2, Chuck 3. Ora ragazzo d'oro, ovviamente un disco incredibile. Non penso che neanche lui ci aspettasse in realtà un successo del genere. Cioè volevo creare il mio brand. Nel 2011 ho visto, ho proprio iniziato a percepire che c'era una rinascita. Dicevamo che cazzo sta succedendo, che cazzo, cioè, è possibile che la gente non piace sta roba? A me piaceva ovviamente. Che poi noi iniziamo a diventare forti, quindi iniziano a succare l'oro. Ricordo la gente che la cantava a memoria. Il posto proprio cadde proprio il soffitto di Simulia. Il ragazzo d'oro rimane una pietra migliare del rap italiano, assolutamente, non d'altro. Come il peccato, tu fai cagare, che peccato.